Professoressa, un nuovo corso di laurea qui all'Università di Foggia, ce lo presento. È un corso di laurea innovativo in materia di welfare e sostegno alle politiche pubbliche. È collocato presso il DEMET, quindi il Dipartimento di Economia, e si avvale della collaborazione con la Regione Puglia e con alcuni enti del terzo settore, nonché con il rapporto fondamentale con la fiera, con il progetto della fiera del terzo settore. L'obiettivo di questo nuovo corso di laurea è creare dei soggetti qualificati professionalmente per svolgere delle funzioni apicali all'interno della pubblica amministrazione o dei medesimi enti del terzo settore o delle organizzazioni internazionali in materia di attuazione di politiche di welfare e dunque di sostegno, laddove la leva pubblica risulta ormai fortemente ridotta e laddove invece l'intervento delle strutture sociali del terzo settore diventano fondamentali. Le professionalità che verranno create attraverso il percorso di laurea avranno una buona quota di conoscenza politica, sociologica ma anche economica per creare anche nuovi strumenti di impatto sociale come vengono richiesti dall'Unione Europea e in modo analogo a quanto accade in altri ordinamenti. È il primo corso di laurea unico in Italia che ha l'obiettivo di sviluppare queste professionalità che vengono fortemente richieste non soltanto dalle organizzazioni pubbliche ma anche dagli stessi attori sociali che ormai sono diventati parte integrante delle politiche di welfare. È un progetto che prevede l'iniziativa e quindi la creazione di un corso di laurea sul sociale. Come dico io si è creata anche una congiunzione quasi astrale perché come associazione noi proponiamo a Foggia quest'anno il primo salone del sociale dove appunto si dovrebbe declinare poi tutte le azioni che si fanno sul territorio per una città che è evocata proprio al sociale. E quindi ci saranno queste due situazioni molto positive sia per quel che concerne il corso di laurea perché così questo corso di laurea formerà dei professionisti che agevoleranno, dei facilitatori, dico io e daranno una mano sia alla pubblica amministrazione e sia al privato proprio in un'ottica di concertazione e di collaborazione attiva per il territorio. Grazie a tutti.